A me piace molto quello che hai tu, mi piace questo, eccolo La Montessori non è servita a niente Vai Laura, tira 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 Ok, voilà, bellissimo Daniele mi ha raccontato di questo orologio Dicendomi che era un orologio utile e che in qualche modo aveva un modo di raccontare il tempo diverso dall'orologio tradizionale Nasce dall'idea di facilitare la lettura di un orologio da parte di alcune persone che hanno delle problematiche, quindi delle difficoltà nel leggerlo Quindi questo è Slow, un orologio prodotto dall'Associazione Italiana Persone D'Amchi e dall'Istituto Europeo di Design Che ha una particolarità Questi quadranti così, con questi colori, servono a far capire bene quanto spassa da un'ora all'altra Alla lancetta più piccola, intendiamo dire, che è quella che sta sul quadrante bianco, quindi che sono più o meno alle tre Sta per arrivare nel quadrante successivo, quindi nel quadrante arancione, quindi le quattro E nel fatto che dici si sbaglia passando? Sì, a volte sì No, io sempre E la prima volta che l'ho comprato, il ricavato di questo orologio? Il ricavato di questo orologio va direttamente all'Associazione Italiana Persone D'Amchi Quindi io vengo a trovarli? O ci vieni a trovare o... Ah, è un posto, si fa Sì Va bene, grazie Niente Grazie